Andiamo al segno dei gemelli, una luna decisamente migliore rispetto a quella dei giorni scorsi, vi sentite meglio, meno oppressi sia per quanto riguarda il lavoro, la vita di tutti i giorni, la vita familiare, ma anche e soprattutto nei rapporti con il partner, oppure con i vostri amici, oppure con le persone care. Vi sentite più sostenuti, aiutati anche a risolvere alcune problematiche che purtroppo in questo momento ci sono nella vostra vita. È una luna questa che parla di possibilità di cambiare, di cambiare sotto tutti i punti di vista, sia per ciò che riguarda la vostra vita normale, quindi delle abitudini, delle cattive abitudini che volete togliervi, ma anche di alcuni rapporti personali, sentimentali, di amicizia, che devono in qualche modo essere rivisti e ne avrete la possibilità proprio in questi giorni. Andiamo alla seconda.